Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz Io sono Riccardo Zago e oggi parleremo dell'indicatore Ichimoku Precisamente andiamo ad aggiornare un po' di posizioni o comunque di analisi che abbiamo affrontato durante l'ultima sessione di trading con Ichimoku Se volete sapere che cosa trattiamo all'interno di questa sezione basta andare nella sezione Servizi premium, eccola qui la sessione di trading con Ichimoku Qui c'è tutta la descrizione Sessione settimanale Ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 17 che cosa trattiamo? I principali strumenti finanziari Forex, indici, materie prime ed anche azioni come vedremo in questo momento Qui sotto invece c'è una intera sessione di presentazione quindi se siete curiosi qui trovate un'intera sessione Andiamo ad aggiornare alcune posizioni Andiamo a vedere alcune analisi Partendo da che cosa? Partendo dal titolo Juventus L'avevamo trattato ampiamente durante l'ultima sessione Che cosa avevo detto? Attenzione perché qui il prezzo è tirato troppo Ne stavamo parlando proprio giovedì 20 settembre Un bellissimo short si poteva provare qui Che cosa avevo detto? Se il prezzo si è chiuso con una doji o con una candela di indecisione avrei aperto una posizione Questo non è accaduto Però vi ho detto anche un'altra cosa Se il prezzo chiudeva al di sotto del minimo della candela di martedì 19 settembre Cioè 1.58.2 avrei aperto una posizione short Questo non è accaduto E quindi non sono in posizione Penso però che il prezzo possa scendere almeno fino in area 1.38 Sì proprio qui 1.38 E quindi valuterò nuovi posizionamenti a ribasso Una volta che il prezzo raggiungerà la zona di 1.6 Vedremo quali saranno i livelli precisi Alla sessione di giovedì di 3.11 Ma vi do un'anticipazione 1.6 lo segno Eccolo qui E 1.6.2.5 Questa è una zona che mi piace veramente molto Per provare uno short Ovviamente molta attenzione Perché lo stop può dividersi in due parti Quindi bisognerà frazionare e gestire tutto per bene E quindi è per questo che vi invito alla sessione Di giovedì Andiamo avanti Parliamo di un altro titolo Che è il titolo Beiersdorf Vado a prenderlo subito Siamo in posizione in perdita In questo momento su questo strumento Che cosa notiamo? Beh notiamo che il prezzo Dopo aver testato il supporto in area 96 96.50 Che avevo individuato È salito in maniera molto molto importante Nella giornata di lunedì Cioè ieri Però abbiamo Abbiamo assistito a un ritrazzamento Nella giornata di oggi Notiamo un po' di indecisione Ovviamente Come sapete Io nei titoli Non vado a Non vado a mettere la linea Tenkan E la linea Kijun Quindi stiamo a vedere Come si comporterà È vero che ci arrivano le prime avvisaglie Ribassiste Però insomma io mantengo questa posizione a rialzo Magari solamente alleggerendo un po' L'esposizione Andiamo avanti E parliamo di EuroCAD Andiamo a vedere EuroCAD Eccolo qui Apriamo subito il grafico Qui si invece uso tutte le linee Di Ichimoku Tenkan, Kijun, Kikou, SSA, SSB Eccolo qui Che cosa avevo detto? Avevo detto Attenzione Ci sono delle possibili occasioni rialziste Ma anche ribassiste Quindi stiamo flat E attendiamo delle rotture Per posizionarci al rialzo Queste rotture sono avvenute Il livello di 1.5993 è stato rotto Ma non è questa una candela Che poi mi porta ad aprire posizione a rialzo La candela di lunedì Guardate come si C'è stata una spinta a rialzo Ma poi subito recuperata Ebbene quindi non opero su questo strumento Anche perché se andiamo a vedere il time frame settimanale Notiamo come qui piuttosto attenderei una possibilità short che long Guardate che lunga SSB piatta Che abbiamo in area 1.53 Più in alto abbiamo la Kision in area 1.53 E' 60 Prima avvisaglia ribassiste con questa Kumo E la Kiko è al di sotto del prezzo Quindi molta attenzione Qui troviamo un livello molto importante Quello di 1.53 Si potrebbe valutare addirittura uno short Con operatività su time frame settimanale Ovviamente cambierebbero totalmente i ragionamenti Per quanto riguarda il money management Quindi valuterò nei prossimi giorni E se operare o non arrivasse Magari farò anche un bell'articolo Andiamo avanti e parliamo del nostro indice Del Fuzi Mib Andiamo a prenderlo subito Eccolo qui Il nostro Fuzi Mib Molta attenzione Perché anche questo sta raggiungendo la SSB piatta in area 21.720 Più in alto abbiamo la Kision Quindi vediamo che c'è un po' di spazio da recuperare Molta attenzione Perché questi sono giorni caldissimi Tra legge di bilancio e quant'altro Il livello che mi piace molto Però è 21.720 E qui stiamo parlando comunque di un'operazione di lungo termine Invece per quanto riguarda il time frame giornaliero Io sono già in posizione Dalla zona di 21.500 Zona molto importante in primis Perché troviamo due target dell'onda Che ho tracciato con questi punti Il minimo di venerdì 31 agosto Ed il minimo del 12 di settembre E questi sono i target che a mio avviso sono più importanti Quindi sono entrato short Attenzione perché oggi sta salendo molto Io chiuderò il tutto se il prezzo chiuderà al di sopra Di questo livello qui Quindi sto parlando del livello di 21.551 Ok? Questo è il mio Ah no scusate 21.651 E quindi per ora rimango in posizione Anche se sto soffrendo lievemente E invece mantengo le posizioni anche su AudiUSD Eccolo qui AudiUSD Siamo in posizione ormai da tempo Avevo detto attenzione si può valutare di alleggerire Oppure di lasciar correre fino a 0.8330 Interessante la candela che è andata a crearsi Venerdì 21 settembre Che si è creata su questa trend line Di lungo termine che sono andato a trattare Di lungo termine Insomma di medio termine Perché è stata disegnata dai massimi Di fine gennaio 2018 E guardate come ha testato bene la trend line Si è creata una bella doji E quindi questi sono tutti i fattori interessanti Per provare un ribasso Per provare uno short Ecco quindi mantengo le mie posizioni ribassiste Ci saranno molte altre analisi Alla sessione di giovedì Se volete iscrivervi Passate per il calendario Eventi di investire.biz Webinar e corsi E cliccate su iscriviti Qui trading con Ichimoku Per qualsiasi informazione Non esitate a scrivere una mail A info-investire.biz Questa sessione si può avere in maniera gratuita Quindi scrivetemi per capire come fare Con questo ho concluso Vi ringrazio, vi saluto E auguro una buona giornata E un buon trading a tutti